Albano Carrisi, la sua seconda passione dopo il canto. Scopriamo insieme qualcosa che riguarda la sua vita privata. Albano Carrisi uno dei cantanti più amati di tutti i tempi. La sua avventura nel mondo della musica ha cominciato quando era a malapena un ragazzino, lui, cosa piccolo, dimostra quadrato di avere una estensione vocale molto particolare che lo ha portato ad essere un vero e proprio pilastro del panorama musicale italiano. Albano ha fatto sognare il mondo con la sua storia d'amore con Romina Power, i due, che si sono conosciuti quando erano giovanissimi, sono stati insieme per tutta la loro vita. Anche oggi che non sono più a una coppia, continuano a volersi un bene che va oltre ogni cosa. Albano Carrisi, la sua seconda passione dopo il canto. Albano un uomo molto smart e al passo con i tempi, infatti da un po' di anni gestisce un profilo Instagram dove condivide momenti di vita quotidiana insieme alla sua famiglia o in solitudine, come nell'ultimo caso. L'esperienza cinematografica fece nascere in me la passione per la macchina da presa. Un hobby che mi servito per raccogliere ricordi di tipo familiare, ma che è andato via via crescendo e perfezionandosi fino a portarmi alla realizzazione di alcuni video, che sono stati poi trasmessi in televisione, ha scritto Albano in un manoscritto prodotto con Roberto Allegri, dove ha avuto modo di raccontare i dettagli più particolari della sua lunga vita e della sua carriera. In particolare, Lira Sterlina, e soprattutto, un omaggio a mio padre che mi molto caro. Insomma, ho cercato di esprimere la mia creatività anche con le immagini o, leggi anche maggiore. Leggi anche maggiore. Albano, nel corso della sua vita, ha avuto modo di coltivare tantissime passioni. Tra queste anche quella per la macchina da presa, che in ogni caso ha fatto parte proprio dell'inizio della sua carriera con la musica.